Bentornati bambini! Oggi leggiamo insieme gli ultimi capitoli di questo bellissimo libro, La Timida Timmy. E oggi conosceremo chi è il bambino per cui Timmy si è presa una cotta. Curiosi? Ricordate di iscrivervi al canale e alla fine del video di lasciare un bel like. Iniziamo a leggere! Potrebbe essere sicura di sé come Giorgio il Grande, il simpatico, o come Smorfi la smorfiosa, l'antipatica. È invece insicurissima di sé come Linda e anche come un bambino della classe vicina, della terza C. Timmy gli aveva parlato solo una volta, nel corridoio, durante l'intervallo, per dargli un foglio che gli era caduto. E lui era subito diventato rosso come una ciliegia, o come un tramonto. Così diceva la maestra Violetta, che certe volte usava parole speciali, bellissime. Anche Timmy era arrossita. Insieme sembravano una coppia di ciliegie perfetta, di quelle che si possono appendere sulle orecchie. Miriam, con la Y, cioè la Y al secondo posto, la compagna della fila di banchi accanto, aveva un paio di orecchini così, a forma di ciliegia, molto carini. Se glieli chiedevi, te li prestava subito, tutto il contrario di Smorfi la smorfiosa, che non prestava mai niente di niente. Miriam li metteva quando aveva le scarpe da ginnastica rosse e la felpa rossa. Timmy cercava di non vestirsi mai di rosso, ci pensavano già le sue guance a vestirsi di rosso troppo spesso. Quando sentiva che il rossore cominciava a salire, chiedeva a Linda. Sono rossa, sono rossa! E Linda rispondeva, un po'. Poi, per farle piacere perché era la sua amica preferita, aggiungeva, ma non si nota, sta tranquilla. Se il suo banco fosse stato vicino alla finestra, Timmy in quei casi l'avrebbe forse aperta. Non credo però che il trucco funzioni, ma il suo banco era vicino alla porta e, oltretutto, anche al calorifero. Quella smorfiosa di Smorfi, la smorfiosa, appena la vedeva arrossire, le chiedeva se aveva inghiottito un tubetto di salsa di pomodoro. Timmy non le rispondeva niente, ma l'avrebbe mangiata viva. Le risposte giuste le venivano in mente sempre in ritardo. Per rallegrarsi, si voltava verso Paolo quasi Picasso, o verso una bambina simpatica che si chiamava Alba, come l'Alba del cielo. Oppure guardava Rosì di sera bel tempo si spera, cercando di schivare lo sguardo grigio di Grigia, la lagna delle lagne. Nell'intervallo, mentre chiacchierava con Linda, cercava con gli occhi il bambino rosso ciliegia. E se lo vedeva, il cuore cominciava a batterle forte, e le sue guance diventavano rosse come mille alberi di ciliegie. Come si chiamava il bambino della classe accanto della terza C? Boh! Non sapendolo, potremmo chiamarlo come direbbe la maestra Violetta, Rosso Tramonto, cioè rosso di nome e tramonto di cognome. Oppure Rosso Morbillo, cioè rosso di nome e morbillo di cognome. Oppure semplicemente rosso. Un giorno Linda arrivò a scuola felice strafelice. Aveva in mano una cartolina che le aveva mandato dal Brasile il suo amico Lindo. L'aveva subito mostrata a Timmy. C'era scritto mille besos. A Timmy venne subito voglia di mandarne una uguale, ma con il doppio di baci, cioè duemila, al bambino rosso della terza C. Di messaggi con il telefonino nemmeno a parlarne. Infatti la mamma di Timmy le aveva detto, non mi importa se i tuoi compagni hanno il telefonino e tu no, io te lo regalerò quando sarai più grande. Oppure avrebbe potuto mandarli duemila besos via tasca, cioè infilandogli un bigliettino nella tasca del giubbotto. Come avrete notato, a Timmy di idee pazze ne venivano non poche. Forse perché i Timmy di, parlando poco, rimuginano di più. Provò a confidare questa sua idea a Linda, ma Linda le disse, ma cosa ti salta in mente? Piuttosto dobbiamo trovare il modo di frequentarlo, di diventare sue amiche. Ma come? chiese Timmy. Pensiamoci qualche giorno, poi faremo un piano, rispose Linda e aggiunse, così poi tu avrai il tuo amico rosso, come io o il mio amico Linda. Anche se lontano, purtroppo. Al solo pensiero, Timmy diventò rossa come una ciliegia e quella smorfiosa di smorfi la smorfiosa, come suo solito, le disse, ti sei ingoiata a un tubetto di salsa di pomodoro? Timmy non riuscì a risponderle nulla. E voi? Cosa le avreste risposto? Quando i bambini tornano da scuola, le mamme chiedono, com'è andata? E i bambini rispondono, bene, per chiudere il discorso è, arrivederci. Anche perché le mamme con quella domanda intendono, che voti hai preso? Hai saputo rispondere a tutte le domande? Hai fatto bella figura? E i tuoi compagni? Cos'hanno preso i tuoi compagni? Perché sono sempre più bravi di te? Invece, i bambini hanno ben altro per la testa. Per esempio, Timmy, alla domanda come è andata oggi, avrebbe potuto rispondere, da cani, perché non sono riuscita a incontrare Rosso, né all'entrata, né all'uscita, né per le scale, né nel corridoio, né fuori dalla segreteria, né in palestra. In più, la maestra Violetta purtroppo era assente e la surgelata ha fatto il doppio di ore e morivo di sbadillite. In più, lei mi ha messa nel banco vicino a Grigia, la lagna delle lagne, perché dice che ogni tanto è giusto cambiare un po' i posti. Ma la lagna delle lagne non mi ha degnata di uno sguardo in tutta la mattina. In più, mentre andavo alla lavagna, sono inciampata in uno zaino e sono caduta e tutti si sono messi a ridere e sono diventata rossa come una ciliegia. E Smorfi la Smorfiosa mi ha fatto la sua solita odiosa domanda. In più, nella gara di corsa, lei è arrivata prima e io ultima. In più... Com'è andata, Timmy? Bene. Vi ricordate che Linda aveva adottato una cagnolina abbandonata e che l'aveva chiamata Lilli? E che aveva guarito una colombella ferita che era diventata sua amica e che aveva chiamato Blanca? Dunque, Blanca naturalmente non doveva portarla ai giardinetti a fare la pipì, ma Lilli sì. Ebbene, in una tiepida domenica mattina di aprile, mentre Linda faceva passeggiare Lilli, chi ti vede qualche metro più avanti? Niente meno che il bambino della terza C, il rosso! Anche lui stava facendo passeggiare un cagnolino, piccolo, e a prima vista appartenente a varie razze, i più simpatici di tutti. Guglielmo, Guglielmo! Lo chiamava quando gli scappava. Non la pipì, il cane. Linda, per la contentezza, non stava più nella pelle. Devo correre a telefonare a Timmy per raccontarle la bella notizia. Se ha un cane, sarà facilissimo incontrarlo e parlargli. Andiamo, Lilli, spicciati, torniamo a casa. Ma ne ho fatte solo 3-4 di pipì, devo farne ancora 7-8. Avrebbe voluto risponderle Lilli. Spicciati, oppremura, ripetè Linda. Ho aspettato tante ore, questo momento, accidenti! Avrebbe voluto rispondere Lilli, ma non le restò che ubbidire. Timmy, Timmy, ho una bellissima notizia da darti. Fatti accompagnare a casa mia, che ti racconto tutto. Anzi, raggiungimi ai giardinetti sotto casa mia, lì parleremo meglio. Ma di cosa? Te lo dirò poi, si tratta di un Guglielmo. E appese la cornetta. Guglielmo? E chi sarà questo Guglielmo? Si chiese Timmy. Intanto a Lilli, che aveva ascoltato tutta la telefonata, la parola Guglielmo, era piaciuta molto, e si era precipitata a riprendere il guinzaglio che le era appena stato tolto. Il codino le andava a destra, sinistra, destra, sinistra, a cento all'ora. Si può sapere chi è questo Guglielmo? chiede trafelata Timmy a Linda appena arrivata. È un cane, rispose Linda. Un cane! Timmy ama moltissimo gli animali, dal più piccolo vermetto, li libera sempre quando li vede nei cestini dei pescatori, all'elefante, che aveva visto una volta tristissimo in una gabbia del circo. I cani poi li adora, ma che Guglielmo fosse il nome di un cane proprio non se lo aspettava. È appena andato via purtroppo, ma sono certa che ti piacerà moltissimo. Com'è? Descrivimelo, è grande! È piccolo, è senza padrone, è affamato, dici che posso portarmelo a casa? Quando Timmy comincia a fare domande, non la finisce più. I timidi, quando dimenticano per un istante la loro timidezza, diventano scatenati, perché hanno sempre milioni di parole arretrate da dire. Guglielmo non è senza padrone, un padrone ce l'ha e come, disse Linda. E anche tu lo conosci? Anch'io lo conosco. E chi è? Linda avrebbe voluto tenere la sua amica ancora, un po' sulle spine, ma infine confessò. Il padrone di Guglielmo è il bambino della terza C, disse. A queste parole, Timmy diventò rossa come mille tramonti, come mille ciliegie, come mille tubetti di pomodoro, quelli di cui parlava sempre Smorfi la Smorfiosa, anzi, come mille spaghetti al pomodoro, e con un filo di voce disse, vuoi dire che Guglielmo appartiene al rosso? Sì, Guglielmo appartiene al rosso. Sicura? Sicura! E come fai a saperlo? Li ho visti! E dove? Qui! Sono appena andati via! Mentre le due amiche parlavano, non si curavano certo di guardare Lilli, altrimenti si sarebbero accorte che ogni volta che veniva fatto il nome Guglielmo, il codino le andava a destra, sinistra, destra, sinistra, a duecento all'ora. Ebbene, diciamolo, come Timmy aveva preso una cotta per il rosso, così Lilli l'aveva presa per Guglielmo. Qui la storia si farebbe interessante, perché si sa che le storie d'amore, sia di bambini che di quadrupedi, sono sempre interessanti. Ma il fatto è che mentre scrivevo la storia della Timmy da Timmy e dei suoi compagni della terza B, il tempo è volato a più non posso. Non fai in tempo a dire febbraio che è già marzo. Non fai in tempo a dire marzo che è già aprile. Anzi, maggio. Insomma, per dirla tutta, siamo già arrivati alla fine dell'anno scolastico. Nell'aria già sta spuntando la V della bellissima parola vacanze. E anche la C della un po' meno bella parola compiti delle vacanze. Accidenti! Proprio adesso che Timmy della terza B aveva trovato forse il modo di fare conoscenza con il rosso della terza C? Eh sì, proprio adesso. Ma forse non è un male, perché quando iniziano le vacanze, non tutti partono all'istante, no? E le giornate sono più lunghe e c'è più tempo per portare a spasso i cagnolini e per chiacchierare nei giardini, no? Riuscirà Timmy a fare amicizia con il rosso? Riuscirà Lilli a fare amicizia con Guglielmo? E Linda potrà durante le vacanze andare a rivedere il suo amico lindo? E Paolo quasi Picasso dopo l'estate avrà ancora le dita di tutti i colori? E Giorgio il Grande si sarà divertito a Lillanda? E Miriam con la Y al secondo posto sarà ancora così golosa golosa? E Smorfi la smorfiosa avrà perso per la strada qualche ettogrammo di smorfie? E Rosi di sera bel tempo si spera arriverà ancora con una calza a righe e l'altra a pallini? E a grigia la lagna delle lagne non scapperà almeno un millimetro di sorriso? E la maestra surgelata sarà uscita almeno un po' dal suo freezer? E il maestro più che distratto riconoscerà dopo le vacanze ai suoi scolari? E la maestra Violetta sarà puntuale almeno il primo giorno di scuola? Quante domande! Alla prossima puntata tutte, tutte, tutte le risposte! Amici, il libro finisce qui e per rimanere in tema vi auguro buone vacanze estive! Ciao ciao!